Caro bollette, se ne parla e se ne parlerà ancora a lungo. Ottobre è clemente ma con l'arrivo dell'inverno le cose cambieranno e lo sa bene chi è sindaco di un comune di montagna. Le preoccupazioni sono tante, però ci sono tante persone che oggi non riescono a pagare le bollette che sono arrivate. Ne arriveranno delle altre e poi delle altre ancora. Quindi se sono riusciti a tamponare magari la prima bolletta non ho detto che ce la facciano fare con le altre. Noi a Calazzo faremo degli interventi anche che facciamo da anni sulle bollette proprio per venire in conto alle famiglie che non ce la fanno. Però quest'anno dovremo mettere molte più risorse. Sindaco ma anche coordinatore veneto della principale componente del prossimo governo. Governo nel quale ha sempre detto di non voler ruoli per non abbandonare la guida veneta di Fratelli d'Italia ma governo al quale dovrà far ben presente le problematiche delle terre alte. Il governo che verrà ci metterà tutto il suo impegno sapendo che ci sono problemi che vanno affrontati a livello locale sì ma che altri e tanti di questi problemi vanno affrontati a livello europeo è lì che dovremo fare tanta pressione.